Oggi abbiamo approvato una legge importante e soprattutto attuabile, frutto di un lavoro congiunto tra opposizione e maggioranza che è partito dal fatto che nessuna scuola doveva essere chiusa e nessun alunno doveva essere costretto a cambiare scuola. Una legge che va a mitigare gli effetti del dimensionamento scolastico in tutti quei territori dove l'autonomia sarà soppressa, verrà garantito comunque un presidio di segreteria staccata per quanto riguarda tutte le operazioni amministrative e pertanto nei territori le famiglie potranno continuare a avere un punto di riferimento scolastico dal punto di vista amministrativo.